Ciao ragazzi, sono Randellone e siamo nel terzo episodio di Giochi Balordi In questo episodio quello che mi ha consigliato Duet, questo gioco, non è voluto essere sponsorizzato Comunque, per le prossime volte, mi raccomando, scrivete sotto nei commenti un gioco divertente Oppure che fa incazzare sotto nei commenti E se volete essere sponsorizzate, lasciate accanto hashtag parla di me In questo modo capisco che volete essere sponsorizzati e vi aggiungerò nella descrizione e farò guardare il vostro canale nel video Allora, iniziamo, non so nemmeno come si inizia con questo Bene, tocca per ruotare E ora? Ah, ok E ora? Sono lieto di venire accanto a me Non toccare nulla Ah, cazzo Cazzo Ho capito, ho capito, ho capito Ok, non è difficile per ora Dai Uh, ti servirà uno stato mentale circolare Oh, cazzo Inizia ad essere balordo sul serio No No, mi è tutto a capo, no Questo è veramente balordo, ragazzi No, che stupido Dove sta fermo No, no, no Non sembra, ma È più difficile di quanto si possa pensare Ed ecco, ora sto fermo Oh, cazzo Oh, meno male Questo è facile Basta tenere premuto a sinistra È vero Così facile Non arrenderti mai Spera, proviamo sempre a sinistra Ora dubito che Eh, infatti Ora a destra Ok, 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 ok Tac 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 No No, no Non ci credo Non posso essere morto così Dai, è illegale questa volta Questa volta è veramente illegale La legge la dovrebbe vietare No, non ci crederò mai Oh Per alcune cose vale la pena combattere Che so, queste citazioni No Ora inizia il difficile, mi sa No, ma Difficilissimo Aspetta, aspetta Aspetta No, no, no Fermi tutti No, non mi riesce ragazzi Forse sbaglio qualcosa Non so Non lo so Ragazzi Ah, forse ho capito Aspetta No Ero inizio fino a lì No, dai Tac 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 No Ah, ho capito Ho capito Ho capito ragazzi Tac 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 No Ma è impossibile Questo giochino Questo è balordo Veramente Quasi più di Cat Mario Allora No, ma Muoio sempre lì Muoio sempre Aspetta No, 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 no Non ho capito come si fa Con il pezzo No, non posso però Dai Ora mi incazzo No Se stavo fermo Non mi sa Ce la facevo Dai No Non mi riesce più Dai Non ci credo Forse così è più facile Non lo so Con sto cazzo è più facile Torniamo così Vai Ti fa prima No Ragazzi Io Ultimo tentativo E poi Mollo Perché Tutto bad Vabbè Sentite Io Direi di andare via Perché per questo Video Mi sa Vabbè Vabbè Ecco Oh vai Io spero che il video vi sia piaciuto In tal caso Commentate Iscrivetevi E noi ci rivede Al prossimo episodio Di Giochi Balordi Oppure anche in un video Vedremo se ho tempo Vabbè Ciao Ciao Ciao